Grazie a tutti i speaker, sfortunatamente siamo in fortissimo ritardo, ma penso che almeno una o due domande dobbiamo permetterci o no? Qualcuno? Chiedo a Vianelli, ho capito bene che l'autologo ha un alto rischio, un rischio ancora consistente di infezioni fungine? Ho capito male? L'autologo? No. Nessuna domanda? Bene, allora possiamo passare alla prossima. Grazie Paolo Ricci e tutto il suo staff.